Stanno risalendo i casi molto rapidamente, le USCA che non sono mai state smobilitate però hanno ridotto nei mesi tardo-estivi un po' il personale per la riduzione dei casi, ora però rapidamente stiamo cercando di riaumentare la nostra possibilità operativa, con un po' di difficoltà iniziale ma ce la facciamo a rimetterci in pari. Ci sono casi un pochino più estremi oppure, visto che la popolazione è più vaccinata, riuscite a tenere più tutto sotto controllo? Allora, quello che stiamo notando è che non stiamo raggiungendo la gravità dei sintomi dell'anno scorso e anche persone anziane positive riescono a negativizzarsi molto prima rispetto al passato. Ci ha sorpreso un pochino chiaramente la rapidità di diffusione di questi giorni, legata probabilmente anche alle abitudini per le feste. Che cosa si può dire alla popolazione che ovviamente, soprattutto a coloro che hanno contratto il virus, magari c'è qualche tempo di attesa in più? Ci stiamo organizzando, cerchiamo di non lasciare assolutamente indietro a nessuno, chiaramente siamo presenti, collaboriamo con l'ospedale, con gli specialisti, con i colleghi del 118 e con la medicina generale come sempre. Avevamo fatto questa intervista più o meno un anno fa, ci risiamo, passerete un Natale particolare, siete abituati, siete medici, però insomma questo è da dire. Sì, l'anno scorso sinceramente non sapevamo cosa sarebbe successo, quest'anno speriamo di avere imparato dalla capacità che abbiamo avuto l'anno scorso di reagire, a reagire altrettanto bene. Le feste possono aspettare per noi per il momento. Da Medico allora che cosa si sente di consigliare e soprattutto per chi comunque si troverà tra le mura domestiche? Assolutamente di mantenere tutte le precauzioni che vengono diffuse e anche con la vaccinazione mantenere la mascherina, l'igiene e tutto quello che può evitare la diffusione virale. Non ci scopriamo ora diciamo. Ecco, ovviamente i team USCA tengono sotto controllo i positivi, sono loro che poi segnalano eventualmente i casi, ad esempio per i monoclonali? Sì, sì esatto, la presa in carico viene proposto al trattamento con le monoclonali che devo dire ha dato degli ottimi risultati in termini di riduzione, di aggravamento in tutte quelle categorie di persone che presentano i fattori di rischio e che sono candidabili. Quindi sì, siamo noi a fare il primo contatto e proporli ai colleghi poi infettivologi che procedono alla somministrazione. Bisogna agire però nei primissimi giorni dall'insorgenza dei sintomi o comunque dal riscontro della positività? Sì, abbiamo un lasso di tempo di cinque giorni entro cui poter agire, dopodiché non è dimostrato poi un reale vantaggio nella somministrazione delle monoclonali. Però in questi primi giorni è fondamentale spiegare di cosa si tratta e eventualmente indirizzare. Grazie.